Salve, sono Valeria Cammelli e mi occupo dello sportello Dona Chiamadonna della Camera del Lavoro di Firenze. È uno sportello pensato negli anni 90 del secolo scorso dal coordinamento donne di questa Camera del Lavoro. È uno sportello importante che ci accompagna da tanto tempo, importante per le donne che si sono rivolte a noi. È dedicato appunto alle donne, Dona Chiamadonna non credo che lasci nessuno spazio a interpretazione, ed è nato per supportare le donne nell'ambito del nuovo diritto di famiglia. Le donne avevano sempre più difficoltà degli uomini ad accedere alle regole del nuovo diritto di famiglia ed è nato per supportarle in questo senso. Piano piano si è allargato perché abbiamo riscontrato che un altro dei problemi importanti che le donne affrontavano nel mondo del lavoro questa volta era la maternità, quindi un momento di grande bellezza e di crescita per le donne che scelgono e vogliono avere un bambino diventa poi un problema quando si ritorna al lavoro, quando si riaffrontano le problematiche quotidiane. Quindi anche sotto questo aspetto abbiamo avuto ed abbiamo e continuiamo ad avere un grande ruolo di supporto per le giovani donne che si rivolgono a noi per motivi di questi problemi di questa natura e nel tempo si sono affacciati anche altri problemi. Negli anni 90 non sentivamo parlare di di burnout, non sentivamo parlare di mobbing, non sentivamo parlare di stalker, di stalking, cose che invece recentemente, insomma da qualche anno a questa parte, si sono affacciate spesso al nostro sportello con risvolti devo dire francamente sempre positivi. Abbiamo affrontato problemi di questa natura e siamo riusciti ad aiutare in maniera concreta le donne che ce n'hanno parlato. Continuiamo naturalmente a supportare le donne che hanno bisogno di una separazione, che hanno bisogno di un divorzio, che hanno bisogno di un adozione perché il nostro sportello si occupa dall'adozione appunto al divorzio, passando per tutte le occasioni della vita che hanno bisogno di un supporto o da parte di un avvocato o da parte di uno psicologo e in verità il nostro sportello è sempre stato aiutato da un'avvocatessa fino da subito, fin dalla nascita e recentemente che gode anche del supporto di una psicologa perché quando le donne affrontano problemi quali quelli che vengono esposti al nostro sportello ci siamo rese conto che avere l'aiuto anche di una psicologa è importante perché le donne metaforicamente escono con le ossa rotte da alcuni certi tipi di problematiche quindi abbiamo un'avvocatessa e una psicologa che bontà loro ci supportano nel nostro lavoro ci contattate attraverso un numero di telefono o un'email che sono riportati nella pagina web della Camera del Lavoro di Firenze ci trovate in fondo alla Camera, in fondo a questa pagina c'è anche lo spazio dedicato al coordinamento donne e allo sportello Donna chiama donna, quel numero di telefono è il mio numero di telefono se non posso rispondere nel momento in cui la persona chiama io di solito ricontatto e ricerco le persone che hanno lasciato un messaggio o semplicemente che hanno lasciato il loro numero di telefono Salve 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 Salve